Se abbiamo detto che gli asteroisomeri non sono immagini speculari dell'altro, nonostante non sono inconvertibili per rotazione, ci sono degli isomeri che non sono inconvertibili per rotazione ma hanno un'immagine speculare. Quest'immagine speculare prende il nome di enantiomero. Gli enantiomeri di per sé hanno immagini speculari l'altro e sono i classici composi saturi di abilazione come gli alcani, sigma geometria tetraedica e hanno due proprietà principali, esse possono essere o chirali o achirali. Gli achirali che non presentano appunto quella sfarsatura ma quindi presentano un piano di simmetria regolare interno perché sono sovrapponibili a loro immagine speculare, ad esempio tramite traslazione o rotazione, queste sono difficili a separarli nelle reazioni perché hanno proprietà chimiche e fisiche identiche tra di loro. Quelle chirali dobbiamo fare un po' di riferimento al concetto di stereocentro ma nel momento in cui io prenda una molecola chirale che di per sé detta chirale ha già di per sé un carbonio stereocentro vuol dire che i gruppi funzionali che si attaccano a quelli che si attaccano a quelli che si attaccano a quel carbonio devono essere diversi tra di loro. Facciamo un esempio. Un esempio pratico di molecola chirale all'interno del quale c'è un stereocentro è il classico CHBRCLF. Lo scriviamo CHBRCLF. Come vedete è una molecola chirale perché l'atomo di carbonio ibridato SP3 lega quattro atomi diversi, uno, due, tre e quattro, costituendo così un stereocentro. E la molecola non ha un piano di simmetria perché la posso anche scriverla in questo modo. Ad esempio, e poi ci facciamo, essendo immagini speculari l'un dell'altro, possiamo fare anche uno specchio. Quindi CLBRHF. Ci facciamo uno specchio dall'altra parte sovrapponibile perché abbiamo detto che fanno parte di quelli sovrapponibili. BRCHCLF. Eccolo qua. Questo è un carbonio chirale perché ha il bromo, floro, cloro e l'H. Qua, qua, qua e qua possono sostituirsi anche dei gruppi funzionali diversi tra di loro. Ok? Qua sono atomi, ma ci possono essere ovviamente anche gruppi funzionali diversi tra di loro. E devono essere diversi tra di loro perché il carbonio sia chirale stereocentrico. Grazie.